Bene, allora buongiorno e innanzitutto sono ad obbligo i ringraziamenti per per avere concepito l'idea di questo workshop e per come l'avete realizzata. Ci fa piacere trovarci una volta tanto un po' rilassati a aggiornarci sulle varie cose. Io appunto volevo aggiornare sugli sviluppi in questa rivisitazione della teoria di Obri Mader che appunto stiamo facendo con Christian. Ci stanno un paio di lavori, uno pubblicato e uno sul quale spero stia lavorando alacremente adesso in treno. Dunque, quindi la classe di sistemi di controllo per cui stiamo facendo questi ragionamenti sono essenzialmente una classe di sistemi associati a un insieme di campi vettori che verifichino la condizione di Armander. In questo caso, appunto, alcuni dei capisaldi della teoria classica Obri Mader vengono meno. Uno deve un poco reinventarsi la roadmap per cercare di arrivare alle stesse conclusioni. E qui, infatti, cercherò di descrivere il modo come pensiamo di farlo. Quindi dopo un'introduzione breve, perché insomma ormai ho visto che questo genere di sistemi di controllo sono molto noti, sono molto familiari a tutti, quindi cominceremo, comincerò a descrivere come si introduce la costante critica, poi l'insieme di Obri e infine l'insieme di Mader. Quindi, giusto per le notazioni. Allora, benché quasi tutta la presentazione riguarderà sistemi di controllo di tipo appunto Armander, in realtà uno potrebbe volere studiare sistemi di controllo non lineare generali associati a una dinamica F non lineare nel controllo, nello stato, soggetta alle solite ipotesi per avere buona positura delle equazioni di stato. Indicheremo con gamma XU la soluzione che parte da X in zero relativa a un controllo U sul quale non mettiamo vincoli particolari a valori in Rn. Serviranno ipotesi di controllabilità e alla fine poi ci restringeremo a F di tipo Armander, ma una parte dei risultati e magari anche altri si potrebbero ricercare in generale. Poi prendiamo una lagrangiana classica, quindi diciamo l'irregolarità nel problema sta nella dinamica più che nel costo. Una lagrangiana classica che supponiamo periodica, quindi ci mettiamo nel caso del toro, piatto, didimensionale. La miltoniana associata è data dalla solita forma di inviluppo in cui ovviamente intervengono le velocità ammissibili. Un valore che studieremo è il minimo del funzionale azione associato, quindi su tutte le traiettorie che partono da X in zero, minimo rispetto al controllo. E i problemi, diciamo, l'ulena tipico che si vuole studiare è quello che sta purtroppo in basso, in meno visibile, cioè è l'equazione stazionaria sul toro associata a questa miltoniana, per la cui soluzione è fondamentale, diciamo, quindi l'equazione stazionaria in cui compare l'incognita C e la costante C, per la cui soluzione è fondamentale, come vedremo, studiare il limite delle medie di questi valori. Allora, mentre, diciamo, nella teoria classica uno può introdurre questa costante C in vari modi, minimizzando l'azione lagrangiana sul fibrato tangente, qui siamo un po' costretti, adesso vediamo perché, siamo costretti a scegliere un percorso particolare. L'esempio di sistemi di controllo era quello che dicevo, associato a campi FI, che saranno, supponiamo, Lipschitz, ma in realtà quello che importa è di avere una soluzione dell'equazione di Stato definita globalmente. Se prendiamo questi campi, per garantire quei sistemi di controllo qui, per garantire la controllabilità del processo associato, imporremo la condizione Libra, Generating Condition, nota anche come condizioni Chodier, Mander e via dicendo, cioè che, appunto, come sappiamo, quando considero l'algebra di lì generata dai campi e la valuto sui punti X del toro, trovo tutto lo spazio tangente. Quindi ci sta, scusate, R, 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 D. Allora, poi una volta che ho questa condizione, posso associare una metrica e quindi posso misurare la lunghezza delle curve, e quindi una distanza sui punti del toro, toro piatto, che è data dalla minimizzazione di queste lunghezze di curve che uniscono i due punti X e Y. Questa distanza, quindi la topologia associata a questa distanza sublimaniana, equivale a quella classica, quella euclidea, anche se, appunto, la distanza non è equivalente a quella euclidea, come sappiamo. E infatti, appunto, risultati classici sono che, appunto, se vale la condizione di Chou, allora il sistema è controllabile, però, come vi dicevo, la distanza sublimaniana in generale non è equivalente a quella euclidea, e qua c'è un tipico esempio di sfera relativa al sistema dell'integratore nonolonomo, cosiddetto, quello che dà vita poi al gruppo di Heisenberg, per cui le palle hanno questa forma. Quindi il tipico esempio, che poi diventerà anche l'unico che trattiamo, è questo qui, dei sistemi di Hermander. Parte della teoria si potrebbe estendere, però, sotto l'ipotesi di controllabilità, cioè sotto l'ipotesi che il sistema, diciamo, di controllo associato sia controllabile, in un senso opportuno. Le ipotesi sulla lagrangiana che faremo sono essenzialmente una specificazione dell'ipotesi di Tonelli, per cui prendiamo conversità, una crescita dall'alto, quantificate, e, diciamo, ipotesi di crescita sul gradiente della lagrangiana opportunamente quantificate. Non giurerei che sono le ipotesi ottimali, ma, diciamo, sono tanto per fissare le idee. In genere indicheremo con F grande la matrice associata ai campi. E' chiaro quello che... F1, Fm. Allora, quando il caso, diciamo, rimaniano, ovviamente quando D è uguale a M, e la matrice F è non singolare. I campi sono tutti finalmente indipendenti in ciascun punto. Allora, qua abbiamo sostanzialmente la teoria di, da un lato la teoria Wiccam, dall'altro la teoria di Aubrey-Mader, con i lavori di Infati, Mader e Magnet, soprattutto a iniziare una diffusa letteratura sull'argomento. Quando invece non stiamo in questa situazione, M è minore di D, e quindi non assumiamo neanche l'indipendenza dei campi, allora nascono varie difficoltà. Beh, una difficoltà è che appunto il sistema è controllabile sempre perché va alla condizione di Chou, ma la controllabilità è più debole di quella che sia nel caso rimaniano. e quindi appunto ci può volere più tempo per portare un punto in un altro. Beh, non abbiamo un flusso lagrangiano, in questo caso, perché abbiamo una struttura di processo di controllo, e dal punto di vista PDI non abbiamo un'equazione di Hamiltonian-Cobi con Hamiltoniana coerciva in tutte le direzioni. Ci sono direzioni di non coercività. Per cui, come vi dicevo, non possiamo arrivare da tutte le parti, perlomeno non ci siamo riusciti, arrivare da tutte le parti al risultato finale, come si può fare nel caso Tonelli, nel caso classico. Ma abbiamo dovuto seguire una strada un po' tortuosa, ma almeno vincente, partendo dalla costruzione della costante critica, cioè quella costante C per cui esiste la soluzione dell'equazione stazionaria. Questa costante la chiameremo alfa di H, potremmo chiamare alfa di L, appunto è una cosa che dipende appunto dai dati. Una volta che ho la costante critica, si può costruire il semigruppo di Lach-Soleinich, risolvere l'equazione critica, e poi si passa allo studio dell'insieme di obbria e di madre. Per questo abbiamo dovuto adattare in qualche modo la nozione di misure chiuse, su questo verrò dopo. Comunque, si introduce l'insieme di obbria, si hanno le proprietà che uno si aspetterebbe, quindi non differenziabilità in senso classico, e poi si introduce l'insieme di madre. L'applicazione dei minfield games è ancora da venire, diciamo sarebbe lo step successivo, ma una volta che uno ha portato a termine questa roadmap a tutti gli strumenti per fare l'applicazione ai giochi di campo medio. Allora, vediamo un attimo, quindi come si introduce la costante critica, questo è un argomento su cui ho già parlato altre volte, si prende la funzione valore e si dimostra che la media converge, quale che sia il punto iniziale, infatti questo limite è indipendente dal punto iniziale, la funzione valore dipende dal punto iniziale, la funzione valore al tempo t dipende dal punto iniziale, ma se faccio la media e poi passo al limite per t l'infinito, esiste una costante, un numero reale alfa di h, per cui questo limite è lo stesso, esiste, è anzi uniforme rispetto a x. Questo è appunto il risultato di partenza, da qui comincia tutto, qui tutto è benizio. Non è difficile dimostrarlo, ma non è neanche del tutto banale, e senza vite servono un paio di informazioni che uno si deve procurare. Una è una stima di Lipschitz su quelle funzioni vt rispetto alla metrica subrimaniana e l'essenziale qui è che la costante k sia uniforme rispetto a t, è indipendente da t e questo permette di passare al limite, dà l'uniformità alla quale accendavo prima. L'altra è una costruzione che si fa sulle curve ammissive, sulle traiettorie del mio processo di controllo e che dice che appunto data una traiettoria, per esempio una traiettoria ottima, ma non necessariamente, noi poi questo sì lo applicheremo alle traiettorie ottime, a patto di pagare un prezzo fisso indipendente da t, posso sostituirla con un ciclo, con una traiettoria chiusa, con una curva chiusa. Con questi strumenti poi si arriva a dimostrare quello che è l'esistenza della costante critica. Ok, una volta che si ha la costante critica si può introdurre il semigruppo di Lach-Soleinich in maniera classica, questa è semplicemente la solita formula, Lagrangian, ma nella costante critica, è phi. Oh, semigruppo che opera su quale spazio? Allora, qua lo spazio è quello delle funzioni phi che sono dominate da L-alpha-H, dove dominate, ricordo giusto a ruolo l'uccello, dominata da L-una costante, significa lungo le curve, appunto ha questa proprietà, diciamo, di... la crescita lungo le curve è dominata da... dal costo L, meno la costante, e quindi questa proprietà si può esprimere anche in termini di sottosoluzione di equazioni di Amento-Niacobbi, e dinotiamo, indichiamo con dH, le funzioni dominate, le funzioni continue, dominate da L-alpha-H, quando come per costante prendo alpha-H. su queste funzioni definisco un'applicazione, una mappa, T, T, e poi me la studio. Allora, adesso non vi sto a raccontare tutto quello che... tutte le riflessioni che si possono fare, ma insomma, quello che conta è che è effettivamente un semigruppo, questo non è anche messo. utilizzando la media di Hubble si fa vedere che esiste una soluzione dell'equazione critica, che sarebbe questa qua, l'equazione critica, l'equazione associata alla miltoniana e alla costante critica, ma questo non basta, perché un'equazione, qualsiasi soluzione non va bene. Noi vorremmo una soluzione della costante dell'equazione critica che sia anche un punto fisso del semigruppo di Laxolenic che abbiamo appena introdotto. Tutte e due le proprietà. Allora, quando uno ha unicità, dal fatto di essere soluzione, segue anche che coincide con... che è un punto fisso del semigruppo, ma qua la mancanza di coercività, l'irregolarità della miltoniana non sembra riuscire a garantire l'unicità e quindi sono due cose che ci procuriamo, non dico indipendentemente, ma diciamo indipendentemente l'una dall'altra, servono tutte e due. Quindi si vuole arrivare ad avere una soluzione dell'equazione critica che sia anche un punto fisso del semigruppo di Laxolenic e per questo si parte da una qualsiasi soluzione. Ci si applica il semigruppo e si passa al limite all'infinito e si fa vedere che questo limite casintotico, partendo da una qualsiasi soluzione, ha le due proprietà che ci interessano. Ok, una volta che ho questo, possiamo passare a studiare l'insieme di obbri. Vabbè, l'insieme di obbri... Per studiare l'insieme di obbri dobbiamo restringere ulteriormente il campo perché, ecco, mentre l'esistenza della costante critica l'avremmo potuta ricavare per un sistema di controllo generale con, appunto, proprietà di controllabilità, poi a un certo punto fatalmente abbiamo bisogno della semiconcavità, della semiconcavità dell'azione, cioè dell'azione minima, cioè del funzionale, del minimo del funzionale azione su curve che... Ecco, qua c'è un errore, gamma 0 uguale a x, gamma t uguale a y. Su curve che uniscono x e y. Allora, su curve che siano traiettorie del processo di controllo. Allora, mi serve la controllabilità che nel caso dei sistemi sublimariani garantisco con la condizione di ciò, ma mi serve anche questa regolarità che non è conseguenza della sola controllabilità. E infatti qua adoperiamo per avere che questa mappa, a volte chiamata soluzione fondamentale, è semiconcava rispetto a una o l'altra variabile, qua ci interessa la seconda, supponiamo che non esistano controlli minimizzanti singolari non banali per il processo. Allora, adesso ricorderò brevemente che significa controlli singolari, è un'altra nozione classica anche dei controlli. Sotto questa ipotesi, comunque diciamo è soddisfatta da un certo numero di famiglie, di vettori che verificano Ermander, abbiamo dimostrato con il Dovig-Riffor nel 2008 un risultato di semiconcavità per l'azione minima e con questa proprietà e la soluzione fondamentale ricaviamo che anche ogni punto fisso del semigruppo di Luxoleinic è semiconcavo. Questo è uno dei motivi che vogliamo anche i punti fissi. Quindi costruiamo una soluzione semiconcava dell'equazione critica. Allora, giusto due parole per... Allora, i controlli singolari si possono introdurre in vari modi. Per esempio, guardando la endpoint map che è quella che associa al controllo la traiettoria a un certo tempo T e il differenziale di questa mappa quando non è soggettivo diciamo che il controllo è singolare. E i controlli singolari si possono anche caratterizzare per dualità con l'esistenza di una soluzione del sistema aggiunto non banale che resta ortogonale al sottospazio generato dai campi in qualsiasi punto della traiettoria associata al controllo. E come vi dicevo ci sono appunto questa è una proprietà dei sistemi di vettori all'ermandere ci può essere o non ci può essere ci sono classi di sistemi di ermandere per cui si esclude a priori la presenza di controlli singolari ad esempio Heisenberg oppure più in generale questi strongly bracket generating ma diciamo è una proprietà che restringe ovviamente l'appliciabilità. Ok quindi d'ora in po' ci restringiamo a questa situazione in cui non ci sono controlli singolari non banali in modo da avere la semiconcavità della della soluzione fondamentale. Fatto questo allora si introduce la barriera di Peyers guardando un po' alla sintotica per ti che tende all'infinito della soluzione fondamentale diciamo alla sintotica della soluzione fondamentale tolta da componente costante legata alla costante critica cioè questa differenza e la definizione che si muta al caso classico è ovviamente quella insieme di Aubry come quelli i punti per cui la barriera di Peyers sulla diagonale si annulla diciamo i punti per cui a infinito xx è uguale a zero dopodiché parte l'analisi di questo insieme la prima cosa che si mostra è che è non vuoto questa è una conseguenza essenzialmente della della compattezza dello spazio delle configurazioni cioè del toro in questo caso quindi questo insieme è non vuoto e anzi una volta che c'è un punto ci sta tutta una traiettoria definita su tutta la retta traiettorie che si chiamano calibrate in gergo e che è tutta fatta appunto di dei punti dell'insieme di Aubry quindi l'insieme di Aubry è un insieme di traiettorie belle minimizzanti minimizzatori assoluti definiti su tutta la retta dal momento che appunto queste curve hanno giocano un ruolo particolare per la barriera di Payens finiscono per essere luoghi di regolarità delle soluzioni critiche però regolarità adattata nel senso che qua insomma la regolarità in genere ci sta a vari modi leggerla un modo è di leggerla sull'equazione e sulla stretta conversità della Miltoniana rispetto al momento ora in questo caso non è vero perché appunto ci stanno i campi quindi la regolarità che si ottiene è sempre relativa ai campi quella che si chiama differenziabilità orizzontale si introduce questa nozione poi è una nozione classica di differenziabilità orizzontale in un punto se appunto nelle direzioni diciamo sullo spazio delle direzioni dei campi o differenziabilità e si dimostra che ogni soluzione critica ha questa proprietà sui punti dell'insieme di Obrì quindi insieme di Obrì è fatto di punti regolari dal punto di vista della differenziabilità orizzontale per le soluzioni dell'equazione critica dopodiché possiamo cominciare a studiare l'insieme di Mater allora infatti grosso modo appunto questa analisi è frutto un po' del lavoro dell'ultimo anno perché fino a un po' di tempo fa erano un poco bloccati sull'insieme di Mater in quanto per analizzare l'insieme di Mater soprattutto per dimostrare che il contenuto dell'insieme di Obrì che abbiamo appena incontrato c'è una tecnica appunto dovuta ai lavori di Antonio con Albert Fatì che consiste nel costruire delle sottosoluzioni strette dell'equazione critica nei punti del complementare per esempio dell'insieme di Obrì che siano C1 e con quelle si definiscono le misure chiuse e via dicendo qua diciamo trovarle C1 anche C1 orizzontali sembrava essere una cosa un po' un po' e quindi abbiamo un po' modificato l'approccio sostituendo essenzialmente restringendo la classe delle misure strette definendole non sulle funzioni C1 ma sulle funzioni semiconcave quindi la definizione di misura stretta che abbiamo adottato alla fine è le misure chiuse no scusa misure chiuse sì la definizione di misura chiusa che abbiamo adottato è essenzialmente la stessa che si adotterebbe in generale ma permettendo alle funzioni test di essere semiconcave non chiedendo la proprietà C1 e quindi si parta le misure di probabilità su Td per RM che hanno momento secondo finito rispetto al secondo gruppo di variabili e si impone che la derivata direzionale orizzontale di qualsiasi funzione semiconcave integrata rispetto a queste misure faccia a zero è essenzialmente la stessa cosa delle misure chiuse però passando dalle funzioni C1 derivate orizzontali di funzioni C1 a derivate diciamo orizzontali di funzioni semiconcave quindi non sono delle vere direzionali ma sono delle derivate direzionali una funzione semiconcava ha sempre derivate direzionali unilaterali in tutte le direzioni quindi è una cosa ben definita e ok allora poi bloccando il livello K dei momenti si ottengono dei sottinsieme compatti queste misure strettamente chiuse sono compatte nelle misure in momento secondo finito e quindi si dimostra che la costante critica è data proprio dal minimo su questa classe di misure per K sufficientemente grande e che quindi esiste il minimo su tutta la classe delle misure fortemente chiuse diciamo nel senso che dicevamo ok dopodiché queste misure dove viene raggiunto il minimo sono le misure di Mater e l'insieme di Mater quindi si ha la definizione come soltanto qua bisogna sostituire Rd con Td e poi si prende l'unione la chiusura dell'unione dei supporti di queste misure e si ha l'insieme di Mater la sua proiezione sul primo fattore cioè su Td e l'insieme di Mater proiettato Projected Mater e a questo punto il risultato fondamentale è questo qui che l'insieme di Mater è contenuto nell'insieme di Obri e per questo appunto serve la costruzione adesso tempo per quanto c'è stata l'aggiunta credo che sia in due minuti tre minuti per dimostrare questa inclusione appunto serve fare ricorso a queste sottosoluzioni strette che non saranno C1 ma semiconcave nel nostro caso è il motivo per cui abbiamo ristretto la classe di misure però appunto l'idea funziona anche in questo caso e si fa vedere che appunto l'insieme di Mater è contenuto nell'insieme di Obri un'altra riprova del fatto che è in un vuoto l'insieme di Obri l'insieme di Mater quindi è l'insieme di regolarità essendo contenuto nell'insieme di Obri quindi per ogni soluzione per una soluzione dell'equazione critica è l'insieme di regolarità orizzontale se uno prende l'insieme di Meyer proiettato quindi la proiezione sul primo fattore e inoltre quindi ha una struttura di grafico continuo perché appunto si può rappresentare esattamente come il grafico di questa mappa che quando x sta nell'insieme di Mater dà una mappa continua per quello che dicevo prima dà una mappa continua perché questa miltoniana legge soltanto le derivate orizzontali della chi è quindi ineregolare niente questo completa diciamo l'analisi della teoria di Obri-Mader nel caso di equazioni associate a campi di vettori dell'Ermander e l'applicazione che è ancora on the way ai giochi di campo medio dovrebbe essere a questo punto a portata di mano perché quello che uno vuole fare è studiare preso un sistema di Minfield Games associato con H associata come abbiamo visto a dei campi di vettori di Ermander andare a studiare il limite asintotico della soluzione e per far questo appunto quello che ci si aspetta è che il sistema critico questa volta in cui ho l'equazione ma anche il termine delle misure giochi un ruolo essenziale e quello che abbiamo adesso a disposizione è un'analisi della risolvibilità della prima equazione e con questo è tutto vi ringrazio e questo è la vista dal nostro albergo grazie allora la seconda speaker di oggi è Elisa Continelli dell'Università dell'Aquila che ci parlerà di semi-concavity for the minimum time problem with time delay grazie buongiorno a tutti colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori per questo invito quello di cui parlerò oggi è un risultato di semi-concavità che abbiamo ottenuto di recente insieme con Cristina per la funzione valore di un problema di tempo minimo in presenza di ritardo prima di presentare il nostro risultato principale voglio introdurre quello che è il problema di tempo minimo consideriamo il seguente sistema dove U è un sottoinsieme compatto di RM la dinamica F è definita in Rn per U a valori in Rn generalmente sappiamo che un controllo è una funzione misurabile U a valori nell'insieme controllabile U grande e per ogni dato iniziale X in Rn per ogni controllo U denoteremo in questo modo non punta denoteremo in questo modo l'unica soluzione Y associata ad X del sistema di controllo 1 fissiamo poi un sottoinsieme non vuoto e chiuso K di Rn che gioca il ruolo di target a cui si vogliono inviare le traiettorie del sistema di controllo sottoesame e denotiamo con di K la funzione distanza da K e definiamo per ogni R positivo questo insieme K però che è l'insieme di tutti gli Z in Rn tali che la distanza dal target valutata in Z è minore strettamente di Rho definiamo poi θ di X e U che è il primo tempo in cui la traiettoria che parte da X con il controllo U raggiunge il target e poi denotiamo con R l'insieme raggiungibile cioè l'insieme di tutti quei punti di Rn che possono essere portati fino al target in un tempo finito ovvero tali che la θ di X U è finita per un qualche controllo U il problema di tempo minimo per il sistema di controllo considerato è il seguente minimizzare la θ di X e U tra tutti i controlli U e la funzione valore di questo problema di controllo ottimo si chiama funzione di tempo minimo e la funzione T definita nell'insieme raggiungibile a valori non negativi la cui espressione ho riportato qua sotto dovremmo avanti assumerò che sempre che K è un sottinsieme compatto di Rn in questo caso è noto che sotto una condizione di controllabilità che si chiama in letteratura condizione di tipo Petrov che qui ho riportato che la funzione di tempo minimo è localmente elipsiziana nell'insieme raggiungibile R una dimostrazione di questo fatto la si può trovare in questo articolo di Cannarse e Sinestrari del 95 inoltre in generale è vero che la funzione di tempo minimo non è differenziabile ovunque come in questo esempio dove scegliamo il target uguale a zero consideriamo questo sistema in questo caso l'insieme raggiungibile è tutti coincide con i reali e la funzione di tempo minimo è il valore assoluto di x e quindi non è differenziabile in zero ricordiamo ora quella che è la definizione di semiconcavità noi stiamo adottando una semiconcavità con modo locale diciamo di tipo di modulo lineare in generale una funzione continua a v definita in un sottoinsieme omega di rn a valori reali si dice semiconcava se per ogni compatto sottinsieme con verso k che sia compattamente contenuta in omega esiste una postante positiva che dipende dall'insieme k tale che questa disuguaglianza è verificata per ogni coppia di punti x e h che soddisfano questa proprietà sempre nell'articolo di Garnarse e Sinestrari del 95 è stato dimostrato che la funzione di tempo minimo è semiconcava nell'insieme raggiungibile meno il target k a patto che la distanza dal target di k sia semiconcava in rn meno l'interno di k qui diamo un criterio per diciamo in cui si dimostra quando questa proprietà di regolarità sulla funzione distanza è soddisfatta in generale se k è un sottoinsieme di rn chiuso è sempre vero che la distanza è semiconcava in rn meno k se inoltre k soddisfa questa proprietà di regolarità che è una condizione di sfera interna di raggio rho allora si ha che addirittura la distanza la funzione distanza di k è semiconcava in rn meno l'interno di k vogliamo ricordare che tutti gli insiemi che abbiano bordo c1 1 soddisfano questa condizione di regolarità sulla distanza inoltre è noto che la funzione di tempo minimo t è l'unica soluzione di viscosità di questa equazione di emilton jacobi bellman con questa condizione al bordo ovvero che t è 0 sul bordo del target e t tenda più infinito quando si approccia il bordo dell'insieme raggiungibile e una dimostrazione di questo fatto la si può trovare nell'articolo di bardi del 1989 oppure nel libro di bardi capuzzo e dolcetta e presento adesso un po' di letteratura sulla semiconcavità in tutti questi lavori ma in realtà ce ne sono moltissimi altri è stata studiata la semiconcavità per vari tipi di equazioni quindi contesti anche diverse dal nostro ora parliamo del problema di tempo minimo in presenza di ritardo consideriamo questo sistema di controllo con ritardo il ritardo è rappresentato da questa costante positiva tau u è ancora un sottinsieme di rm la dinamica f è definita sempre in rn per u ha valori in rn in questo caso i dati iniziali non sono più punti di rn ma sono invece funzioni che appartengono allo spazio di banac di tutte le funzioni a valori vettoriali e continue sull'intervallo meno tau zero fissiamo ancora un sottinsieme non vuoto chiuso di rnk che sarà il nostro target denotiamo con dk la distanza da k e definiamo come prima l'insieme k ro per ogni positivo le assunzioni che facciamo sul nostro modello sono le seguenti supponiamo che la dinamica f sia continua limitata da una costante positiva m e che sia inoltre l'ipsiziana di costante l rispetto alla prima variabile ed uniformemente nel controllo assumiamo poi che sia l'insieme controllabile u che il target k siano sotto insiemi compatti di rm rn rispettivamente e che la dinamica f sia semiconcava rispetto alla prima variabile e uniformemente nel controllo in generale per la teoria sulle equazioni differenziali con ritardo che si può trovare in questi libri di Alanai e Eile e Lunel si può dimostrare che grazie alla nostra assunzione la prima assunzione ovvero la locale lipsizianità rispetto alla prima entrata e la limitatezza della f per ogni dato iniziale x che appartiene appunto allo spazio di Banach delle funzioni continue meno tau zero e per ogni controllo u esiste un'unica soluzione per il sistema di controllo con ritardo che denoteremo al solito y x u a denotare appunto la dipendenza dal dato iniziale e dal controllo definiamo definiamo poi ancora theta di x e u che è il primo tempo in cui la traiettoria che parte da x con controllo u appartiene al target e in questo caso l'insieme raggiungibile è l'insieme di tutte le funzioni x che sono in quello spazio di Banach tali che la theta di x e u è finita per un qualche controllo u ancora una volta il problema di tempo minimo per il sistema con ritardo è il seguente e in questo caso la funzione di tempo minimo è il funzionale valori non negativi la cui espressione è questa quindi quello che notiamo è che a differenza del caso classico senza ritardo non c'è più diciamo l'insieme raggiungibile non è più un sotto insieme di rn ma effettivamente è un sotto insieme di uno spazio di dimensione finita e quindi di conseguenza anche la funzione valore è definita in un sottospazio di uno spazio di Banach quindi il contesto è completamente diverso qua cito un po' di letteratura è stata sviluppata per problemi di controllo ottimo che coinvolgono ritardi temporali la teoria di Hamilton Jacobi in tutti questi lavori però i problemi di controllo ottimo che sono stati considerati sono tutti a orizzonte temporale finito quindi diciamo il nostro caso ancora non è stato contemplato vorrei parlare anche un po' di quelli che sono cosiddetti sistemi ereditari nella letteratura i sistemi ereditari sono sistemi di questo tipo in cui la dinamica non dipende soltanto da un momento passato della traiettoria ma dipende da tutta una storia passata della traiettoria come ho scritto qui e anche in questa situazione è stata sviluppata la teoria di Hamilton Jacobi per sistemi ereditari in questi lavori di Lukoyanov Plaxi Nezu in cui viene introdotta una nozione di differenziabilità fatta apposta per le funzioni per i funzionali definiti nello spazio delle funzioni continue in meno tau zero su un qualsiasi intervallo in realtà adesso siamo parlo della regolarità della funzione di tempo minimo per i nostri scopi data una soluzione Y che del nostro sistema di controllo coritardo che corrisponde ad un dato iniziale X e ad un controllo U definiamo la funzione Y antibasso che è una funzione continua meno tau zero fatta così quindi stiamo guardando a quella che è la storia precedente della traiettoria al tempo T e diamo una versione del principio della programmazione dinamica che è più consono al nostro setting funzionale in particolare se prendiamo X nell'insieme raggiungibile sia allora che per ogni T che sta tra zero e il tempo minimo valutato in X e per ogni controllo U che soddisfa quella condizione vale allora questa disuguaglianza dove qui abbiamo proprio la funzione valore T valutata nella traiettoria Y antico rispondente al controllo U e al dato iniziale X definiamo poi data una costante positiva M barra due insiemi l'insieme L'IP M barra che è l'insieme di tutte le funzioni continue meno tau zero e che siano anche l'Ipsiziane di costante M barra e l'insieme R M barra che è il sottoinsieme dell'insieme raggiungibile cui elementi appartengono all'insieme L'IP M barra anche nel nostro setting funzionale sotto la ipotesi di controllabilità di tipo Petrov vale il seguente risultato quindi se assumiamo tutte le condizioni che avevamo posto all'inizio per ora non serve la semiconcavità della F e assumiamo appunto che valga la condizione di Petrov allora data una costante positiva M barra che è maggiore uguale della costante di limitatezza della dinamica F e se assumiamo che il ritardo soddisfi questa condizione di piccolezza dove qua la mu è la costante che appare nella condizione di Petrov sia che il tempo minimo può essere stimato in termini della distanza dal target della funzione X valutata in zero per ogni X che sta nell'insieme R M barra tali che la sua valutazione in zero sta nell'insieme K delta diamo un cenno di dimostrazione di questo risultato e questo risultato è un'estensione diciamo degli argomenti classici che sono stati poi utilizzati da Cannarsa e Sinestrari per provare l'analogo risultato nel caso senza ritardo fissiamo quindi un punto X zero in R M barra con X zero di zero che sta in questo insieme non lo scegliamo in K altrimenti la disuguaglianza di prima automaticamente verificata e definiamo induttivamente una successione di funzioni continue X J fatta così X J più uno è Y T J associata al controllo X J con dato iniziale X J il controllo X J è preso in accordo con la condizione di Petrov relativa al punto di R N X J valutato in zero e i tempi T J sono così fatti dove osserviamo che compare ritardo tau i tempi T J effettivamente sono ben definiti grazie alla condizione di piccolezza che avevamo imposto sul ritardo tau dopodiché dimostriamo che la X J di zero effettivamente cade su quell'insieme per ogni J che le X J sono funzioni lippiciziane di costante M barra e che è soddisfatta questa disuguaglianza dove K è una costante opportuna che dipende anche dal ritardo nel nostro caso e dove in realtà è qua che serve che i dati iniziali siano lippiciziani e non solo non basta la lippicizianità ma serve una lippicizianità che sia la stessa uniforme per tutti per tutti i dati iniziali dopodiché grazie ad un argomento induttivo otteniamo che vale anche questa disuguaglianza di modo che la distanza dal target della X J di zero va a zero quando J tenda a più infinito e questa somma la possiamo stimare in termini della distanza dal target del punto del dato iniziale X zero valutato in zero infine definendo questo controllo U barra ovviamente avremo che la funzione di tempo minimo valutata in X zero per le proprietà del tempo minimo è minore uguale della teta di X zero U barrato questo è uguale alla somma degli ITJ e da quello che abbiamo dimostrato prima si ottiene infine l'asserto proviamo poi questo risultato che riguarda la lippicizianità locale della funzione di tempo minimo sotto le ipotesi della proposizione precedente considerando ancora una costante positiva M barrato che è maggiore o uguale della costante delimitatezza della dinamica F e se prendiamo un controllo un ritardo piccolo sia che la funzione di tempo minimo è localmente lippiciziana all'insieme R M barrato e questo fatto si dimostra semplicemente utilizzando la proposizione precedente si usa il principio della programmazione dinamica e si prova diciamo su due passi innanzitutto si prova che T è localmente limitato e poi che T è localmente lippiciziano in R M barra abbiamo detto più volte che il ritardo deve soddisfare una condizione di piccolezza nel seguito assumeremo sempre che questa condizione di piccolezza su ritardo è soddisfatta perché in realtà noi proviamo la semiconcavità della funzione di tempo minimo nell'insieme R M dove M è la costante di limitatezza della F della dinamica e siccome per la dimostrazione diciamo di questo risultato di semiconcavità serve la lippicizianità per quella funzione di tempo minimo sull'insieme R 3 M allora questa condizione viene semplicemente dal prendere le condizioni precedenti con costante M barrato che è 3 M diamo poi la definizione di semiconcavità del nostro setting funzionale quindi un funzionale continuo V definito in un sottinsieme S di questo spazio di Banach si dice semiconcava se per ogni sottoinsieme convesso compattamente contenuto in S c'è una costante positiva dipendente eventualmente dall'insieme K tali che questa disuguaglianza vale per ogni coppia di funzioni continue X e H che soddisfano quelle proprietà osserviamo che in questo caso non abbiamo più una norma in RN ma ovviamente trattando di funzioni continue una norma infinito questo è il nostro risultato di semiconcavità assumiamo appunto che il ritardo sia piccolo e che le condizioni che abbiamo posto all'inizio in particolare serve anche la semiconcavità della funzione della dinamica F e che la condizione di Petro valgano dobbiamo assumere anche che la distanza da K la di K sia semiconcava in RN meno l'interno di K e abbiamo allora che la funzione di tempo minimo è semiconcava in RM meno RKM che è il sottinsieme di RM i cui punti valutati in zero stanno dentro al target per la dimostrazione di questo fatto serve questo lemma che ci assicura che sotto l'ipotesi del teorema di semiconcavità esistono sempre due costanti positive R e K tale che questa disuguaglianza vale per ogni coppia di funzioni H che è una funzione continua meno tau zero X che è nell'insieme raggiungibile e che soddisfano le condizioni qua sotto quindi la X di zero sta nel bordo del target la norma di H infinita è piccola la X più H valutata in zero non sta nel target e infine X e H sono funzioni libsiziane di costante M è qui che entra in gioco la libsizianità della funzione di tempo minimo nell'insieme R3M perché nel momento in cui scegliamo X e X più H libsiziane di costante M possiamo solo dire che la X più 2H è libsiziana di costante 3M do un piccolo scenno di dimostrazione del risultato di semiconcavità e per semplicità assumeremo che per ogni dato iniziale X esista sempre un controllo ottimo associato appunto al dato X altrimenti si può usare sempre un argomento di approssimazione e fissiamo quindi Q che è un sottoinsieme convesso di questo insieme Rm meno Rkm e prendiamo due funzioni X e H che siano funzioni continue che soddisfino questa proprietà di appartenenza denotiamo poi con U un controllo ottimo associato ad X e definiamo tre traiettorie la prima non è nient'altro che la traiettoria ottima associata ad X quindi quella che parte dal dato iniziale X e che segue il controllo ottimo U e poi altre due traiettorie vicine a quella ottima che sono la traiettoria Y1 che parte dal punto iniziale X meno H con il controllo U e la traiettoria Y2 invece che parte da X più H e segue il controllo U tenendo conto del ritardo utilizzando alcune stime particolari dobbiamo distinguere sempre il caso in cui la T sia minore o maggiore uguale del ritardo perché in certe situazioni si ricade dietro i dati iniziali quindi a volte serve anche usare appunto la proprietà di lipcizianità sui ritardi otteniamo che vale questa risuguaglianza e poi riscrivendo quella che è la semiconcavità della dinamica riusciamo ad ottenere infine che vale questa terza disuguaglianza sempre tenendo conto del ritardo quindi queste costanti eventualmente dipendono anche dal ritardo e qui per la prima volta vediamo comparire la norma di H infinita al quadrato a questo punto a questo punto si distinguono tre casi per ottenere le stime di semiconcavità sulla funzione di tempo minimo il primo caso è quello in cui una delle due traiettorie per esempio nel nostro caso la Y1 raggiunge il target prima della traiettoria ottima in tal caso la stima si ottiene col principio della programmazione dinamica con il lemmaco presentato prima e con la lipcizianità della T nell'insieme R3M il secondo caso è quello in cui nessuna delle due traiettorie raggiunge il target prima della traiettoria ottima e che questo punto di mezzo sta dentro il target K in questo caso la stima si ottiene sempre col principio della programmazione dinamica con le stime precedenti in particolare basta solo la prima su questo caso e il fatto che la distanza di K è semiconcava in RN meno l'interno di K e si ottiene appunto la stima desiderata l'ultimo caso è quello simile al precedente l'unica differenza è che questo punto non cade dentro il target K in questo caso gli argomenti sono analoghi a quelli del caso 2 ma dobbiamo usare la terza stima per ottenere appunto che si abbia anche in questo caso la norma di H infinito al quadrato io con questo concludo la presentazione e vi ringrazio grazie Elisa domande quando eh sì no anche per quando il ritardo è ancora no diciamo che la piccolezza del ritardo viene naturale nel senso che quando uno poi prova ad adattare queste tecniche ci sono problemi proprio di malpositura delle costanti che appaiono dei tempi che si considerano quindi dovrebbe essere una cosa un po' più delicata insomma sarebbe da trattare a parte per ritardo beh comunque diciamo il ritardo può influenzare molto gli effetti che ci sono su un sistema quindi diciamo è ragionevole che per ritardi piccoli in teoria si riesca insomma secondo me per i ritardi grandi inizia a diventare un po' un po' inverosimile spesso in questi modelli con ritardo si assume una condizione piccolezza su ritardo in realtà sì esatto per esempio anche quando le studio sui sistemi multiagenti spesso si rompono tutte le simmetrie ci sono insomma non è non è un caso che abbiamo ancora esaminato ma c'è controllabilità sì 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 ok ancora no perché l'ambito con ritardo è stato veramente soprattutto la parte della regolarità è quasi mancante diciamo almeno per il tempo minimo non c'è ancora non ci abbiamo cioè sarà insomma futura ricerca diciamo quindi sì c'è c'è in mente l'idea perché appunto tutte le Hamilton Jacobi sono per problemi con orizzonte finito quindi il caso orizzonte infinito temporale ancora non è stato fatto ok va bene allora cominciamo l'ultima sessione primo oratore Marco Cira dell'Università di Padova il titolo lo vedete stadio stascia nell'equilibrio in pura moto men fir ok grazie mille per la presentazione grazie agli organizzatori per avere organizzato questa iniziativa molto interessante tra giocatori non troppo omogenei ma neanche troppo eterogenei in pari ok quindi anche grazie per aver detto il mio nome in effetti nel titolo mi è stato fatto notare che non c'è il mio nome ma ormai credo che sia chiaro chi io sia non sono in incognito vi parlo di un lavoro in corso con l'analisa lavoro veramente in corso ci sono risultati parziali siamo un po' nel clou della storia e vabbè vi racconto un po' fin dove siamo arrivati dunque il problema di Kuramoto è un problema molto diciamo classico in fisica quello che si vuole fare è descrivere il diciamo l'interazione tra n oscillatori accoppiati loro sono descritti dalla loro fase che sarà un x compreso tra 0 e 2 pi greco quindi diciamo un valore sul toro su s1 se preferite diciamo nella primissima formulazione del modello che è molto molto generale si chiede che la fase evolva in tempo come diciamo il spunto sia uguale a una certa frequenza caratteristica dell'iesimo oscillatore e che poi ci siano delle interazioni tra tutti gli oscillatori diciamo modellate da queste funzioni gamma ora naturalmente fin da subito si è capito che quando gli oscillatori sono tanti e le gamma sono qualsiasi questi diciamo sono modelli degli anni 70 quindi non c'era neanche la potenza diciamo computazionale dei calcolatori che abbiamo ora quindi modello assolutamente intrattabile prima semplificazione diciamo ovviamente caso simmetrico caso meanfield già qui c'è abbastanza ricchezza in realtà per descrivere un sacco di diciamo modelli fisici biologici io non lo conoscevo devo dire questo modello ma nella letteratura fisica è molto molto popolare perché è il prototipo di un modello in cui avviene una sincronizzazione spontanea ok tutti questi oscillatori a causa delle loro interazioni ci sarà un'interazione qua che vede lo sfasamento e che cerca di riallineare tutti gli oscillatori veramente molto molto popolare perché ci sono tantissimi fenomeni che su tutte le scale possono essere descritti da questo tipo di dinamiche da leggevo insomma non sono esperto ovviamente ma leggevo da tipo come funziona il battito cardiaco quindi quei meccanismi elettronici elettrici e biologici che fanno battere il cuore al fatto che vediamo sempre la stessa faccia della luna quello è esattamente un fenomeno di sincronizzazione meccanica tra due oscillatori come mai vediamo sempre la stessa faccia della luna due oscillatori sono sincronizzati ok si possono fare si notate c'è subito una semplificazione non ho detto qui tutti gli oscillatori hanno la stessa frequenza diciamo caratteristica quindi il punto è capire in tempi lunghi se avviene una sincronizzazione tra tutte le fasi per semplicità possiamo supporre che l'oscillatore abbia frequenza zero nel senso che togliamo un omega t da tutte le dinamiche e arriviamo a togliamo omega e metteremo anche dei rumori dei browniani questo è ragionevole si mette una perturbazione diciamo stocastica in tutte le dinamiche a me piace particolarmente perché poi nelle pd ci sarà un bella placiano ok lo dico onestamente qual è il fatto in tutta questa letteratura quello che si osserva in tutte anche varie varienti di modelli quello che interessa è naturalmente il comportamento in tempi lunghi di queste dinamiche e quello che succede è questo se K che diciamo dice quanto interagiscono effettivamente questi oscillatori se K è piccolo e soprattutto K è sotto una certa soglia c'è quel fenomeno che si chiama incoerenza non c'è nessuna sincronizzazione gli oscillatori vanno come se fossero disaccoppiati quello che uno un po' sospetta mentre se K supera una certa soglia si osserva sempre di più al crescere di K sincronizzazione quindi allineamento tra tutti questi oscillatori questo ripeto modello degli anni 70 poi cosa è successo molto recentemente quindi diciamo sono un po' interessato ci siamo un po' interessati a questi modelli di Kuramoto perché Carmona Soner e in realtà già un po' prima sempre Carmona Graves hanno diciamo fatto hanno aggiunto un elemento a questo modello che è l'elemento di razionalità il modello diventa le dinamiche le fasi dei singoli oscillatori possono essere controllate quindi possiamo cambiare la velocità possiamo diciamo scegliere di modificare lo stato e la fase qui lo stato è la fase effettivamente degli oscillatori come ci piace e pagheremo un prezzo pagheremo un costo il costo nel caso più semplice possibile è un'energia diciamo quadradica in caso meccanico paghiamo il quadrato della velocità e quest'altra diciamo funzione questa cioè l'interazione con gli altri oscillatori è descritta da questo termine che è nullo quando gli oscillatori sono perfettamente in fase ed è massimo quando gli oscillatori sono sfasati di di greco se in quadro è massimizzato quindi le domande che poi uno si fa sono fondamentalmente le stesse che uno che si faceva per il pura moto classico cioè quando nel tempo lungo ci aspettiamo in coerenza quindi una totale disallineamento tra i tra gli oscillatori che disallineamento rinforzato dal fatto che ci sono i browniani quindi tutti diciamo mischiato dal fatto che comunque abbiamo i browniani quando invece in tempi lunghi si può osservare una convergenza verso uno stato chiamato sincronizzato coerente come preferito la cosa diciamo interessante è che qualsiasi sia quindi adesso scrivo un po' quello che è stato osservato quello che è stato dimostrato in questi in questi lavori qualsiasi sia diciamo l'intensità dell'accoppiamento lo stato totalmente incoerente quindi quello che io chiamo m barra quindi la distribuzione delle fasi totalmente uniforme sull'intervallo 2 pi greco questo è sempre un equilibrio questo è sempre un equilibrio diciamo qui sto già pensando al caso in field dove siamo passati formalmente al limite nel numero di oscillatori e quindi descriviamo tutta la famiglia di infiniti oscillatori con un flusso di probabilità su 0 2 pi greco quindi caso stazionario banale per ogni k esiste però non è l'unico quindi altro fatto che viene dimostrato scusate altro fatto diciamo dimostrato su questo stato stazionario di equilibrio è che questo equilibrio in effetti sotto una certa soglia critica dell'accoppiamento è in effetti stabile è unico e stabile ok quindi in effetti quando non c'è abbastanza accoppiamento la diffusione desincronizza il sistema in tempi lunghi quindi non ci si aspetta nessun tipo di coerenza invece ok altra cosa che viene osservata rispetto agli stati stazionari se k è abbastanza grande in particolare su una certa soglia esplicita ci sono equilibri stazionari non uniformi quindi non desincronizzati e questi equilibri come uno sospetta quando k cresce diventano sempre più sincronizzati quindi convergono per k che va infinito a delta ok quindi c'è tutta una plettora una famiglia di soluzioni che sono quantomeno invarianti per traslazioni quindi c'è una quantomeno una famiglia infinita di soluzioni non banali domanda diciamo aperta quando questi stati stazionari non banali quindi quando questi stati coerenti in effetti sono attrattivi per il sistema in tempi lunghi questa è la domanda che viene lasciata aperta nel paper e la domanda qui abbiamo un po' cercato di dire su cui abbiamo cercato di dire qualcosa da una prospettiva PDE quindi diciamo descriviamo il modello leggiamo il modello con il solito solito con il sistema minfi games dove c'è appunto la descrizione backward forward quindi dove c'è un plus di informazione all'indietro che viene dall'Hamilton Jacobi quindi l'ottimizzazione del singolo oscillatore equazione all'indietro con questo accoppiamento con il flusso in avanti che descrive diciamo gli oscillatori quindi come sono distribuiti le fasi degli oscillatori non sto mettendo per pigrizia nessuna condizione al bordo non ci sono condizioni al bordo per una volta tanto i games ci piace tanto guardare i problemi sul toro perché non ci sono problemi di bordo questo è un problema naturalmente sul toro quindi quantomeno diciamo è perfettamente giustificato poi uno quello che deve fare è prescrivere una misura a tempo zero e un costo finale che è questo qua però diciamo l'interesse è studiare nei tempi lunghi cosa succede da cosa partiamo? partiamo intanto da cercare di caratterizzare e descrivere veramente questi stati stazionari non banali perché diciamo ci aspettiamo non unicità però quantomeno vorremmo provare a dire qualcosa di più e sugli stati stazionari abbiamo diciamo delle risposte ecco ci arriviamo però ripeto dal punto di vista delle equazioni a derivate parziali guardiamo il sistema stazionario associato a questo backward forward ci sarà una normalizzazione sulla misura qui sono tutte derivate prime ok perché il problema è su 0 2 pi greco quindi dimensione 1 ci mettiamo solo diciamo visto che c'è un'imvarianza per traslazione guardiamo solamente le soluzioni pari quindi le formule di dissezione già nominate ieri semplifichiamo un po' il costo e quello che viene fuori che il costo è un costo tipo potenziale quindi un coseno di x è proporzionato con questa media rispetto al coseno di x sempre ok bene allora diciamo per chi ha un po' di nozioni su questi sistemi in realtà è un sistema con un sacco di struttura appunto unidimensionale sul toro lineare quadri con il controllo e si può far vedere che è potenziale potenziale che noi diciamo stiamo prendendo la prospettiva di descrivere questi oscillatori come cioè gli equilibri di questi oscillatori sono nel senso gli equilibri di Nash però possiamo comunque rivedere il tutto cioè il tutto equivalente a avere diciamo un controllore globale che sceglie le fasi per tutti e decide qual è la strategia migliore quindi c'è veramente tanta tanta struttura rimane il solito problema che i tempi lunghi si vogliono fare su un sistema che non è parabolico evolutivo in avanti come diciamo nei problemi più classici ma è backward forward quindi cosa si sa sulla stabilità mi riparto un po' da risultati noti di stabilità in problemi in free games la cosa che voglio enfatizzare è questa si conosce essenzialmente la stabilità quando c'è unicità cioè quando si riesce a si riescono a dare delle condizioni strutturali che assicurano l'unicità di equilibri allora lavorando un po' sugli argomenti che portano all'unicità si riesce a trovare anche la stabilità in tempi lunghi il nostro problema è che non c'è unicità ok quindi quello che andiamo cercando è verosimilmente fuori da qualsiasi diciamo regime noto che però riprendo perché dopo forse aiuterà spero in maniera intuitiva a giustificare un'eventuale stabilità in tempi lunghi almeno locale allora forse sono già stati diciamo menzionati ma insomma i risultati unicità si conoscono lungo la assumendo un'ipotesi di monotonia che dopo scriverò esplicitamente su cui farò qualche conto la stabilità è nota per una serie di lavori essenzialmente di Cardella Ghella e poi c'è tutto diciamo un mondo parallelo però sempre di diciamo monotonia che va sotto il nome di displacement monotonicity su cui non dirò nulla c'è vabbè ok la monotonia per tempi brevi ma che è assolutamente non interessante se vogliamo fare tempi lunghi e a questo punto è giusto menzionare il recentissimo lavoro che forse appunto l'unico che studia stabilità in tempi lunghi senza nessuna ipotesi di unicità che di fatto come si diceva prima ha unicità quantomeno del problema stazionario però questa è un po' la panoramica allora come mai dovremmo aspettarci questi stati coerenti stabili o attrattivi allora fatemi partire dall'argomento diciamo standard di stabilità mi è giusto per rinfrescare un po' le idee per qualcuno forse vi annoierò anche come si fa quando c'è monotonia in questo senso la srilyons allora dire monotonia la srilyons vuol dire essenzialmente dire che f che adesso qua è genericamente f ma che dobbiamo pensare come il costo corrente quindi la funzione che appare qua funzione o funzionale ok di m questa è diciamo monotona nella soluzione f monotona nella variabile m se è un funzionale monotonia in l2 qua per semplicità assumo che sia stretta questa monotonia quindi che fm1 meno fm2 m1 meno m2 sia maggiore o uguale di alfa distanza l2 tra m1 m2 allora argomento standard di unicità come si fa è un sistema con stato stato aggiunto essenzialmente ok cosa vuol dire che se ci andiamo a studiare come varia in tempo il prodotto scalare tra abbiamo due copie di soluzioni 1 m1 2 m2 prendiamo l'integrale di questo prodotto che vede le differenze si lavora con le equazioni si lavora con le pde si integra per parti e quello che salta fuori è questa identità magica che dice l'integrale in tempo della diciamo distanza in l2 tra i gradienti delle funzioni valore più la distanza l2 tra m1 e m2 l'integrale in tempo è controllata da questo diciamo prodotto scalare tra differenza stato aggiunto e stato ok ma questa perché è cruciale per la monotonia perché per la per l'unicità perché in effetti si vede che quello che sta a sinistra è non negativo quello che sta a destra è zero perché se si parte dallo stesso m si arriva allo stesso u m1 e m2 sono uguali 1 o 2 sono uguali e quindi immediatamente si conclude che manca un pezzettino quello con m1 meno m2 ma insomma si conclude che i gradienti coincidono m1 coincide con m2 allora cosa voglio dirvi ora voglio dirvi come questo produce stabilità tipo questi paper di stabilità per i minfi game sono 20 30 40 pagine però secondo me l'idea non lineare diciamo essenziale è qua mi permetto di dire che è qua supponiamo di partire da stati diciamo iniziali e finali diversi ok allora quell'identità di prima vale su un qualsiasi orizzonte su un qualsiasi intervallo temporale t1 e t2 cosa c'è a sinistra di solito al solito c'è di nuovo qualcosa che quantifica la distanza tra le soluzioni e a destra pure perché c'è 1 meno 2 m1 meno m2 assumiamo per un attimo vedete qua c'è un m1 più m2 quindi c'è un peso quindi assumiamo per un istante che sto peso sia staccato da zero staccato da zero che è totalmente naturale nel setting periodico allora a meno di una costante la differenza alla fine tra due soluzioni sull'intervallo t1 e t2 si controlla appunto con questo prodotto ma questo prodotto si può spezzare con young e la differenza tra gli stati 1 e u2 si può ricontrollare con quangare passiamo da u ai gradienti quindi qua c'è un passo che tra un attimo sarà fondamentale scritto o meno però quello che troviamo a sto punto che cos'è troviamo che appunto l'integrale tra t1 e t2 di una certa funzione che quantifica la distanza tra le due soluzioni è controllata da quella stessa funzione a tempo iniziale e finale in questo se guardiamo questo orizzonte quindi non è non è una cosa cioè non è gronval però è una cosa che permette comunque una cosa comunque diciamo viaggia in entrambe le direzioni temporali però è una cosa che è un fatto che comunque permette di stabilire convergenza esponenziale che vuol dire questa funzione che quantifica la distanza tra due soluzioni decade esponenzialmente in tempo naturalmente avendo delle informazioni partendo da un dato finale diverso ci sarà pure un termine diciamo esponenziale in tempo che va indietro nel tempo però diciamo se pensate intervalli temporali intermedi lì c'è convergenza esponenziale e questo questo è il meccanismo tante belle diciamo conseguenze quindi convergenza delle soluzioni in tempo lungo unicità e di fatto degli stati stazionari e convergenza dei problemi evolutivi ai stati stazionari appunto unici ora questo argomento si può leggermente perturbare in modo tale da quando è che abbiamo iniziato scusate ok perfetto va bene si può leggermente perturbare in modo tale da aggiungere un po' di stabilità e avere e tollerare un po' di antimonotonia quindi questo ci aiuterà a un certo punto è un diciamo lavoro che abbiamo fatto con Alessio porretta e essenzialmente adesso cerco di farla breve si tratta di introdurre una stima ulteriore che lavora sulla seconda equazione quella di Fokker-Planck per diciamo controllare di nuovo la distanza L2 tra M1 e M2 rispetto alla distanza L2 tra i gradienti 1 e U2 quindi si può fare questa stima c'è un po' di lavoro da fare per renderla indipendente in tempo ma insomma si aggiunge questa informazione nell'identità magica iniziale e si scopre che c'è un contributo ulteriore che permette di tollerare un po' di antimonotonia in questa diciamo coupling quindi in questa funzione che lega le due equazioni quindi quello che nel nostro problema di Kuramoto si chiamava k per seno quadro eccetera eccetera quindi fissando un po' quest'idea che c'è la diffusione che in qualche modo stabilizza il sistema questo come ci può aiutare nel nostro problema di Kuramoto tornando al problema di Kuramoto sembra un po' che andiamo contro questo questo regime di poca monotonia perché qua k vogliamo di fatto capire cosa succede quando k è grande quindi c'è tante interazioni ok però diciamo uno può scalare può scalare le cose qui diciamo stiamo cercando soluzioni stiamo guardando le soluzioni pari di fatto ci interessano quelle concentrate quando k cresce appunto ci aspettiamo che queste soluzioni si concentrino diciamo la festa sta nell'origine quindi noi cosa facciamo desingolarizziamo questa delta quindi scagliamo in modo tale da vedere cosa succede nell'origine e se diciamo il riscalamento è scelto nella maniera opportuna l'ordine di questo accoppiamento quindi diciamo in queste nuove variabili l'accoppiamento tra le due equazioni è scritto in questo termine appare un 1 su radice k e questo è un po' un conto che ha sbloccato varie cose e ci ha fatto capire che ok globalmente il problema è fortemente accoppiato ma se si guarda spazialmente in regioni vicine all'origine il problema è quasi disaccoppiato ora qual è il problema quindi perché non si può veramente riutilizzare tutto l'apparato che vi ho descritto prima c'è un grosso problema ogni volta che uno fa diciamo un blow up un riscalamento cambia l'insieme su cui lavora ok in questo riscalamento l'insieme su cui lavora sta andando a tutta la retta reale quindi tutte le costanti che c'erano nel conticino che vi ho fatto vedere si deteriorano si perdono Poincaré tutte diciamo le stime che avevamo con Alessio diciamo saltano quindi diciamo non si applica in effetti in maniera diretta quel ragionamento per arrivare a un risultato però diciamo questo ci ha un po' insegnato ci ha un po' fatto capire che diciamo ragionare su quella scala di blow up era la cosa giusta quindi diciamo negli ultimi minuti vi dico quello che abbiamo che è questo per K grandi per K grandi ah ok grazie per K grandi questo problema di Kuramoto nella versione stazionaria ha due soluzioni quella incoerente quindi quella totalmente totalmente distribuita su tutto l'intervallo 2 pi greco e è una diciamo coerente è una coerente quindi c'è una caratterizzazione quantomeno una caratterizzazione allora come ci arriviamo due parole velocissime velocissime non potendo appunto usare l'apparato precedente dobbiamo vedere le cose un po' a mano quindi studiamo il comportamento dell'operatore di punto fisso tipicamente Minfi Games l'operatore di punto fisso vuol dire ok fisso M diciamo nella prima equazione risolvo per U risolvo la seconda equazione sapendo U' trovo una nuova M quando ho un punto fisso ho una soluzione del problema questo è un punto fisso su uno spazio diciamo di funzioni qua diciamo ci spostiamo su un punto fisso da R in R perché è quello che fissiamo esattamente questo valore quindi lo buttiamo nella prima equazione risolviamo e ricostruiamo il valore insomma si tratta di studiare un punto fisso di una funzione di fatto da 0,1 a 0,1 e diciamo l'immagine che un po' uno dovrebbe avere in mente secondo me è questa quando K è piccolo di fatto questo operatore è quasi costante vicino ad essere costante quindi c'è un solo punto fisso quando K è grande quello che facciamo in effetti vedere è con un po' di fatica è che diciamo questo operatore parte essenzialmente con derivata nulla e abbiamo un rate esplicito di questa di questa derivata quindi localmente in effetti l'operatore è una contrazione diciamo uno è un solo punto fisso e dopo e dopo dopo questa diciamo regione in cui essenzialmente piatto deve necessariamente andare a toccare uno e quindi qua c'è una regione in cui la derivata esplode di nuovo riuscendo a un'analisi asintotica a far vedere qual è il rate di esplosione delle derivate qua facciamo vedere che questo grafico può toccare localmente intorno a sto punto di intersezione la bisettrice solamente nel punto uno uno è un po' un calcolo fine una stima fine su queste derivate come vabbè due parole è un metodo aggiunto nel senso che si vuole far vedere si vuole caratterizzare vogliamo scrivere un'espressione per f primo quindi questo naturalmente implica diciamo derivare tra le variazioni formalmente rispetto a questo parametro in questa equazione andare a vedere come reagisce m in uscita ci fanno un po' di conti ora la vera ostruzione è stata questa è stata ok voglio f primo piccolo qual è la fregatura voglio solo dirvi qual è la fregatura voglio f primo piccolo vedo uno su k e uno su k è ottimo per avere una quantità piccola però in questa espressione di f primo appare v primo che è la soluzione dell'equazione linearizzata rispetto ad a al quadrato l'equazione di v primo è scritta qua e in questa equazione c'è un k quindi se uno proprio ragiona così per ordini di grandezza v primo dovrebbe andare come k k entra qua k al quadrato k al quadrato su k fa k in effetti cioè è giusto che sia così perché qua la derivata deve essere di ordine k quindi questo diciamo non è un ragionamento locale è puramente globale ci sono un po' di identità di dualità che permettono di semplificare il problema e vabbè sta parlando un po' tecnica e stimare se derivate ok giusto per finire rimane aperto il problema di stabilità di questa unica almeno nel caso simmetrico unica soluzione sincronizzata è attrattiva o no questa è ancora la vera domanda su cui stiamo riflettendo cosa ci fa sperare che questa soluzione sia in effetti localmente stabile di nuovo un conticino puramente euristico ritornando al problema riscalato non vi ho detto prima queste v che compaiono nel problema riscalato sono tipo degli uno meno coseni quindi le possiamo pensare uno meno coseni dilatati quindi le possiamo molto con le mani che insomma si agitano pensare come parabole ok se facciamo questa stilizzazione in effetti il problema scritto qua diventa totalmente lineare e quadratico quindi ci sono degli ansatz ci sono delle diciamo cose standard che permettono di scrivere tutto semplificare tutto scrivere tutto come ODI come equazioni ordinarie si può fare un'analisi stabilità locale e si scopre che in effetti questo diciamo sistema stilizzato ha ancora la proprietà di avere due soluzioni stazionarie quella diciamo totalmente desincronizzata e quella invece sincronizzata e con un'analisi veramente molto semplice di stabilità si vede proprio che quella soluzione sincronizzata è stabile quindi chiaramente speriamo di farcela ma ci stiamo ancora lavorando e per adesso vi ringrazio dell'attenzione grazie ci sono domande? Cristina prego il caso quando le facce iniziali sono diverse ci sono le funzioni matematiche ma è interessante per voi allora ah le frequenze beh allora cioè è molto è molto 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 più complicato nel senso che non lo possiamo inscatolare in questo diciamo paradigma minfield dove tutti i giocatori sono indistinguibili diciamo nei problemi originali motivati dalla fisica omega i è distribuito in una certa maniera quello che riescono a far vedere loro è che in effetti in tempi lunghi gli omega si allineano però no questo per noi è assoluto cioè proprio fuori per adesso dalla teoria abbiamo bisogno di una teoria di giocatori non omogenei appunto che magari in tempi lunghi omogenei le diventano però è una bella domanda ma proprio fuori da io ho lavorato un po' su tramonto però sono stati diversi considerando le sequenze iniziali anche diversi allora magari non è regerizzata in tempi però buona sapere chiacchierare un po' altre domande io voglio una cosa tu hai fatto un conto generale in cui mi sembra hai mostrato che moralmente anche se non c'è unicità di soluzione uno dovrebbe aspettare stabilità vorrei parlare di qualcosa dovrebbe aspettarsi stabilità in tempi lunghi se ho capito locale cioè per soluzioni che diciamo in questa almeno come puoi vedere così in questa scala di blow up in questo zoom nell'origine se una delle soluzioni che vivono che si vedono in questa scala di blow up quindi in altri termini sufficientemente concentrate queste dovrebbero in tempi lunghi convergere allo stato sincronizzato esatto ma diciamo in questo quanto conta il fatto che c'è diffusione tanto cioè diciamo dipende un po' dalla scala che appunto uno guarda nel senso che si può anche vedere il problema limite per k che va infinito come un problema senza diffusione cioè se qua si divide per k e si diciamo rinormalizza e si descrive ux come ux frattore dice k c'è un 1 su k sulla diffusione e la diffusione va a 0 quindi diciamo dipende un po' dalla scala che uno va a vedere quale dovrebbe essere l'effetto stabilizzante nel modo in cui alla fine noi dimostriamo quelle proprietà sul punto fisso il Laplaciano ha un ruolo per esempio l'articolo di Martino è probabilmente del primo ordine quello che hai citato sì quindi dovremmo immaginare una versione perturbativa di quei lavori cioè con diffusione piccola magari però non penso che riusciamo a verificare le sue ipotesi non riusciremo a verificare le sue ipotesi non lo so poi un'altra domanda che volevo fare probabilmente è una sciocchezza ma questo diciamo un'istituzione che hai fatto mi hai ricordato anche di un altro modello che è stato cita che c'è il modello di Fenkel contro l'O ma c'entra qualche cosa o non c'entra niente sì che avessero tanto anche regimono i francesi diciamo se vuoi quel modello è vicino a quello che raccontato ieri Davide su Redaelli su questi questa catena di giocatori che interagiscono solo con i vicini c'è stato in effetti segnalato che in certi casi quei modelli sono vicini questi diciamo forse moralmente non tanto nel senso che se in quei modelli appunto le interazioni sono a coppia coppia sono solo quei vicini queste comunque sono interazioni globali però ecco se vuoi diciamo uno può tranquillamente immaginare un modello dove le interazioni qua dove questi accoppiamenti siano di nuovo solo voi vicini allora forse si ricade in qualcosa vicino a quello che nomine non sicuramente nel campo minfield game un po' di analisi era stata fatta va bene qualche altra contributo alla discussione no? ancora molte grazie allo speaker e ci prepariamo per Cristina bene è il piacere di introdurre ora Cristina Pignotti della Università dell'Aquila e il suo talk a titolo Opinion Formation Models with Time Dependent with Time Dependent Time Delays va bene prego grazie Antonio e vabbè prima di tutto ringrazio gli organizzatori Alessandro Paola e Cristian che non c'è adesso presento alcuni risultati ottenuti in collaborazione con Elisa che ha parlato prima e con mio ex studente di dottorato Alessandro Paolucci su modelli per formazione di opinione che non sono molto distanti dal modello di cura moto che ha introdotto Marco poco fa vabbè quindi in tempi recenti sistemi multiagente hanno attratto interesse di ricercatori in molte discipline scientifiche sistemi multiagente appunto intendo oltre a modelli di performazione di opinioni che presenterò a breve anche ad esempio il modello di cura moto e un comportamento tipico è l'emergere di una naturale auto-organizzazione che porta a un comportamento collettivo possiamo pensare per esempio a sistemi biologici cito per esempio il libro di Camazzin e altri o il famoso lavoro di Kakeresmeil dove introducono il modello che descrive la formazione di stormi di uccelli o in generale gruppi di animali diciamo questi uccelli che sulla base di semplici regole allineano le loro velocità per cui si muovono come un quasi un corpo unico tendono a muoverci con la stessa velocità e questo è anche il caso di sistemi fisici c'è ad esempio questo lavoro che descrive il moto di alcune cariche elettriche particelle elettriche per ecosistemi e scienze sociali quindi qua veniamo ai modelli per formazione di opinioni su cui mi soffermerò ecco un esempio di torno di uccelli allora vabbè poi ci sono tantissime applicazioni anche in ingegneria ehm in economia problemi di controllo cito per esempio i lavori di eh Vonkev Marco Caponigro e Borsi eh su appunto formazione di opinioni con leadership ehm lavoro di Benedetto Piccoli con Nastassia Puradi e Dutella e Emanuele Trela dove invece loro fanno il contrario cioè studiano un controllo al declustering quindi vogliono controllare il sistema in modo da contrastare questa naturale ehm sincronizzazione vari modelli sono stati introdotti per studiare eh l'evoluzione di delle dinamiche di eh opinioni eh per esempio c'è il celebre modello di Eggselman Krause che è alla base diciamo del mio talk e altri lavori eh in questi modelli è naturale includere un ritardo eh perché frequentemente nelle applicazioni eh ci sono tempi ehm ad esempio tempi di reazione o tempi per per un agente eh per ricevere le informazioni dagli altri agenti eh quindi è naturale includere un ritardo e eh studiare quindi se eh questa ehm sincronizzazione questa convergenza al consenso al flocking a seconda diciamo del modello che stiamo studiando avviene anche in presenza di un ritardo e a volte ci sono delle condizioni sulla taglia del ritardo affinché possa esserci il ritardo non deve essere troppo grande affinché possa esserci questo comportamento naturale di eh di aggregazione di convergenza al consenso e altre volte come vedremo invece si riesce a dare un eh un comportamento di eh convergenza al consenso indipendentemente dalla taglia del ritardo qui appunto come dicevo consideriamo il modello per descrivere la formazione di opinioni di che si ispira a quello di Eggselman Krause anche se il modello di Eggselman Krause descriveva interazioni con raggio di competenza limitato cioè ogni agente era influenzato dagli agenti solo ad una certa distanza poi vabbè questa nozione di modello di Eggselman Krause è stata questa terminologia diciamo è stata usata anche più recente per modelli in cui invece l'interazione è sempre positiva l'interazione tra gli agenti ovviamente è naturale aspettare che l'interazione sia decrescente sia una funzione decrescente della distanza tra gli agenti quindi ognuno è influenzato maggiormente dagli agenti più vicini e questa interazione questa influenza degli agenti tende a zero man mano che gli agenti diventano più lontani quindi comunque nel nostro caso conserviamo la terminologia di Eggselman Krause anche se non ci occupiamo di bounded confidence cioè assumiamo che le interazioni sono sempre positive riusciamo a trattare funzioni di interazione molto generali anche se il caso più interessante nelle applicazioni è sempre quello di interazioni dipendenti dalla distanza tra gli agenti ok quindi consideriamo un modello di Eggselman Krause in questo senso in presenza di un ritardo che è a differenza del ritardo che ha considerato Elisa prima in un differente contesto per il problema di tempo minimo qui consideriamo il ritardo che è una funzione del tempo in generale la presenza di un ritardo rende il problema più difficile da trattare perché si interrompono si rompono alcune simmetrie tipiche del modello e quindi l'analisi diventa molto più complicata e richiede argomenti più primi tra altri riguardo altri lavori su Eggselman Krause in particolare nel caso con Bounder Confidence cioè agenti influenzati solo da quelli in un certo raggio di interazione cito il lavoro di Cera Gioli e Frasca anche il lavoro di Jabin e Moc dove appunto quello che succede in caso di Bounder Confidence è la formazione di cluster invece nel mio caso quando l'interazione è sempre positiva nel nostro caso facciamo vedere che c'è convergenza a consenso quindi tutti gli agenti tendono a uniformare la propria opinione invece in caso di Bounder Confidence avviene la formazione di cluster quindi si uniformano diciamo a gruppi poi ci sono modelli della versione diciamo del second ordine e quindi il modello il famoso modello di Crackers Mail con ritardo è stato studiato in differenti recenti lavori per esempio Janpil Choi e Janaskovic Choi e Lee in nicotesi Choi e Askovic considerano delle interazioni normalizzate Choi e Lee in ritardo ha ottenuto la stima diciamo di convergenza il flocking è ottenuta per ritardi piccoli usando ritardi molto piccoli utilizzando argomenti di continuità anche un lavoro mio con Janpil Choi dove trattiamo il caso di un ritardo distribuito quindi non puntuale ma spalmato su un intervallo come un po' accennava Elisa nel suo talk e anche lavori di Askovic Janaskovic e Marco questo lavoro mio con la mia ex studentessa Cooper Smile con leadership lì in questo caso si riesce ad avere convergenza per ogni ritardo ma questo diciamo è aiutato dalla presenza di leader quindi dalla struttura gerarchica del modello e poi un lavoro con Manuel Trela dove appunto consideriamo Cooper Smile model con ritardo dipendente dal tempo in ipotesi abbastanza generali sulle interazioni per quel che riguarda il modello di Exelman Krause dei risultati di convergenza al consenso sono stati provati prima per ritardi piccoli in un lavoro con Janpil Choi e Alessandro Paolucci e poi in un lavoro anche di Askovic con coefficienti normalizzati e più recentemente quindi questi risultati questi primi risultati sono con un bound sul ritardo quindi c'è consenso assumendo che il ritardo sia opportunamente piccolo mentre recentemente Rodrigues Mauro Rodrigues per Tavia ha tenuto per il second ordine quindi per il problema di Cooper Smile un risultato di flocking con ritardo costante ma per ogni per ogni ritardo e applicando appunto una procedura a step tipica dei problemi con ritardo ma come dicevo anche nel caso del lavoro con Irene avevamo ottenuto risultati di convergenza al flocking per ogni ritardo ma qua c'era una struttura gerarchica che aiutava diciamo l'analisi più recentemente in un lavoro con Elisa abbiamo essesso questi argomenti nel caso di ritardo dipendente dal tempo e siamo riusciti a migliorare i risultati precedenti rimuovendo l'ipotesi di piccolezza sul ritardo quindi otteniamo il risultato di consenso per ogni ritardo cioè bisogna che la funzione di ritardo sia continua limitata dall'alto ma non abbiamo condizioni di piccolezza quindi basta che sia il ritardo limitato e può avere diciamo il bound può avere qualunque taglia inoltre consideriamo funzioni di influenza più funzioni di interazione quelli che descrivono l'interazione tra gli agenti più generali rispetto a quelle considerate in precedenza in particolare non abbiamo bisogno di nessuna ipotesi di monotonia ecco questo è il nostro modello abbiamo n agenti chiamiamo x i gli agenti oppure le opinioni e abbiamo qui c'è appunto la presenza di un ritardo quindi normalmente il modello senza ritardo avremmo quindi che la derivata di x i è la somma di c'è un contributo per ognuno degli altri agenti e quindi x j t meno senza ritardo x j t meno x t moltiplicato per un coefficiente di interazione e qui diciamo consideriamo un ritardo che è una funzione del tempo quindi diciamo l'idea è che ogni agente aggiusta la sua opinione tenendo conto degli agenti ovviamente in generale sarà più influenzato dagli agenti che hanno un'opinione non troppo dissimile alla propria ma ci possono essere interessanti applicazioni anche con in differenti assunzioni i pesi sono di questo tipo qua abbiamo una funzione xi che dipende dalla coppia di agenti e normalmente nella letteratura classica questa è una funzione della distanza tra le opinioni invece diciamo non abbiamo bisogno una funzione della distanza è monotona della quindi distanza tra xi e x j eventualmente x j ritardato noi non abbiamo bisogno di queste ipotesi quindi per noi xi è una funzione positiva anche continua e il ritardo è una funzione continua e semplicemente limitato dall'alto da una qualche costante positiva su cui non non mettiamo condizioni che chiamiamo tau bar e questo fattore di normalizzazione è un po' importante in quanto serve naturale nel modello in quanto diciamo l'influenza complessiva su ogni agente deve essere limitata ma poi è importante in particolare quando abbiamo facciamo poi il minfield quindi minfield limit quindi consideriamo il numero di agenti che va all'infinito e se abbiamo delle stime uniformi questo ci permette poi di di ottenere l'equazione alla pd associata e di estendere i risultati di convergenza al consenso anche alla pd ok ovviamente siccome c'è il ritardo come diceva prima Elisa siccome c'è il ritardo bisogna il nostro dato iniziale non è più un vettore cioè una ennupla di vettori ma è una ennupla di funzioni che assumiamo essere continue la funzione di influenza come dicevo è continua limitata dall'alto da una costante cioè la norma che chiediamo che sia limitata e la norma infinita la denotiamo con K risultati di esistenza su questo modello rimandiamo ai testi classici sulle equazioni con ritardo di Alanai e LLunel per esempio e ci concentriamo sul comportamento asintotico definiamo il diametro del sistema in questo modo come la massima distanza tra due opinioni è una funzione del tempo quindi consenso vuol dire che la distanza tra le opinioni va a zero quando il tempo tende all'infinito e vabbè abbiamo bisogno di certe stime preliminari sul sistema vabbè questo diciamo generalizza il lavoro sul modello di Cooper's Mail di Rodriguez Cattabia e nel caso del modello per formazione di opinioni in precedente lavoro con John Pitch Oil e Alessandro Paolucci allora quindi si ha XI la soluzione del nostro modello supponiamo che le condizioni iniziali siano continue prima si può mostrare che questi prodotti scalari quindi per ogni vettore v fissato il prodotto scalare XITV rimane sempre compreso tra queste due quantità da un lato facciamo il massimo dei prodotti tra XJ e V e dall'altro il minimo quindi il massimo lo facciamo sugli agenti e al variare del tempo in un intervallo di ampiezza tau bar che è il massimo il bound dall'alto sulla funzione ritardo e si fa vedere che per ogni tempo più grande ovviamente queste due diseguaglianze sono verificate quando il tempo sta in questo intervallo ma anche per ogni tempo più grande per ogni tempo successivo queste diseguaglianze sono verificate ok quindi prendiamo un vettore e chiamiamo con M grande di T questa quantità quindi il massimo di questi prodotti scalari con il tempo nell'intervallo di ampiezza tau bar T meno tau bar T e si usa un argomento di continuità quindi definiamo K fissiamo un epsilon positivo definiamo K epsilon all'insieme dei tempi tali che il massimo di questi prodotti scalari rimane minore di MT più epsilon per ogni S nell'intervallo T ovviamente questa diseguaglianza è verificata al tempo T grande quindi per continuità questo insieme è diverso dall'insieme vuoto denotiamo con S etion l'estremo superiore di questo insieme che sarà quindi maggiore del tempo T grande e facciamo vedere che in realtà l'estremo superiore di questo insieme è più infinito si fa con un ragionamento per assurdo si suppone che invece questo estremo superiore sia limitato quindi abbiamo questa diseguaglianza che è verificata su tutto l'intervallo T l'estremo superiore e al limite deve essere verificata l'identità quindi questo è il nostro modello quindi quello che possiamo fare la funzione psi è positiva quindi maggioriamo il prodotto scalare tra x j e v siccome cadiamo in tempi eventualmente tau può essere anche zero quindi o restiamo al tempo t o cadiamo in istanti precedenti quindi si può stimare questo prodotto scalare in questo modo con mt più epsilon di conseguenza siccome anche x e tv risulta minore di mt più epsilon quando il tempo t è più piccolo di s epsilon questa quantità è positiva e quindi possiamo maggiorare possiamo maggiorare la derivata di questo prodotto scalare con qui c'è il massimo della norma infinito della funzione psi e c'è questo fattore di normalizzazione quindi otteniamo k e a questo punto possiamo applicare il gronval e arriviamo ad una contraddizione con l'aver supposto che s epsilon sia limitato perché arriviamo a dire che allora diciamo questa diseguaglianza quindi abbiamo a destra una quantità più piccola di mt e quindi anche passando al limite abbiamo questa diseguaglianza stretta scusate più piccola di mt più epsilon abbiamo questa diseguaglianza stretta e quindi s epsilon è questo è in contraddizione diciamo con quanto affermato in precedenza e quindi s epsilon deve essere più infinito quindi questa diseguaglianza è sempre verificata vabbè analogamente si può provare la stima dal basso ragionando in termini del vettore meno v quindi passando alla diseguaglianza precedentemente dimostrata no ok quindi abbiamo questo bound sui prodotti scalari a questo punto andiamo a definire la distanza iniziale non è proprio la distanza ma teniamo conto del ritardo e quindi andiamo a questa sorta di distanza modificata che è la distanza tra le opinioni dove però s e t diciamo i tempi variano su tutto l'intervallo iniziale negativo di tempi negativi e analogamente costruiamo una successione di con n dove appunto andiamo a considerare le distanze tra le opinioni non solo a uno specifico tempo ma in tutto un intervallo che sarà un intervallo di ampiezza tau bar quindi di tempi tra n meno 1 tau bar e n tau bar e riusciamo a dimostrare che applicando il dilemma precedente riusciamo a dimostrare che per tutti i tempi più grandi di n meno 1 tau bar questa diseguaglianza risulta verificata per ogni coppia i e j quindi abbiamo un bound in particolare salto la dimostrazione quindi in particolare abbiamo che la distanza tra le opinioni rimane sempre minore o uguale della distanza iniziale per tutti i tempi e in particolare questa successione di con n che abbiamo definito dove andiamo a fare i massimi delle distanze su intervalli di ampiezza tau bar è una successione decrescente poi riusciamo anche a dare con argomenti simili un bound sulle taglie delle opinioni infatti troviamo che se m0 è il bound iniziale sulle opinioni quindi andando a considerare le opinioni degli agenti nell'intervallo negativo meno tau bar zero riusciamo a far vedere adattando questi argomenti che le taglie delle opinioni rimangono minore o uguali a questo bound iniziale m0 e questo ci permette di trovare un bound dal basso sulla funzione di interazione questo ci dice che allora la funzione di interazione calcolata sulla coppia x i t x j vabbè a tempo ritardato è maggiore o uguale di una certa costante positiva che è il minimo della funzione psi sul rettangolo limitato da m0 perché appunto le opinioni evolvono sempre restando con taglia minore o uguale a m0 e questo ci permette poi di ottenere delle stime sulle traiettorie che poi ci portano al consenso infatti abbiamo un primo lemma che ci dice che appunto per ogni per ogni vettore per ogni coppia i e j se t è maggiore o uguale di un tempo t0 che è maggiore o uguale di n tau bar riusciamo ad avere una stima di questo tipo inoltre abbiamo che relativamente alla successione di con n vale questa stima che chiamo 1 quindi questo era la massima distanza distanza tra virgolette diciamo consideriamo i tempi compresi nell'intervallo n tau bar n più 1 tau bar e qui abbiamo l'intervallo precedente di ampiezza tau bar un altro un altro lemma sempre diciamo andando a analizzare attentamente le traiettorie del sistema riusciamo a far vedere che questo termine qui questa è proprio la distanza al tempo n tau bar quindi la massima distanza tra x meno x j entrambi al tempo n tau bar e quindi vale questa stima quindi questa quantità è minore o uguale di una fortuna costante che è questa questa costante minore di 1 che dipende questo k è la norma infinito della funzione di interazione psi questo psi 0 è il bound dal basso che abbiamo trovato su psi avendo che le opinioni rimangono nel fortuno rettangolo e tau bar è il bound sul ritardo e quindi abbiamo questa stima e possiamo utilizzare questa stima 2 nella diseguaglianza 1 unitamente alla monotonia della successione di grande con n per avere e poi il nostro risultato di consenso quindi ci serve sulla sulla psi assumiamo solo che sia positiva limitata e continua a dati iniziali continui otteniamo di qui è proprio la distanza quindi è la massima distanza tra due opinioni e il tempo t verifica questa stima quindi abbiamo qua questa parte in parentesi è legata ai dati iniziali questo è quello che abbiamo chiamato di grande con zero quindi questo è il dato iniziale e qui abbiamo una decrescenza esponenziale per un'opportuna costante gamma che è indipendente da n vabbè questo come dicevo avendo quelle due stime precedenti combinando combinando queste due stime e utilizzando il fatto che di n è decrescente questa era la prima stima poi abbiamo la stima su di piccolo in questo modo poi la successione di n di grande con n è decrescente e quindi abbiamo che di n più 1 è minore uguale di costante più piccola di 1 di n meno 2 e quindi questo ci dà una stima chiaramente di questo tipo di 3n minore uguale costante minore di 1 alla n di con 0 che in modo classico dà il risultato di decadimento esponenziale è importante osservare che come dicevo le costanti che otteniamo sono indipendenti dal numero di agenti e questo ci permette di estendere il nostro risultato all'equazione pd associata che quando gli agenti sono tanti è conveniente piuttosto che considerare il sistema od con tantissime equazioni lavorare sulla pd associata e il fatto che le stime siano uniformi ci permette di dare il risultato di consenso anche sulla pd ottenuta come min fill limit del sistema od quindi chiamiamo con m l'insieme delle misure di probabilità in rd la pd ottenuta come min fill limit è questa possiamo anche pensare a misura possiamo anche pensarla come densità come densità delle particelle o delle pinioni alla posizione x al tempo t volendo dato iniziale il campo di velocità è definito in questo modo dove questa è la nostra funzione psi la presenza del ritardo la vediamo qui nel fatto la misura che è non al tempo t rispetto al problema senza ritardo ma al tempo ritardato t meno tau e il dato iniziale è una funzione continua da meno tau bar zero allo spazio delle misure il modello è stato derivato per la prima volta da canuto fagnani e tilli nel caso senza ritardo e da allora poi ci sono state varie formulazioni vari lavori ne cito qua alcuni in particolare il lavoro di Canizzo Carrillo Rosado per PDI associate a vari a generali sistemi detergente mentre la formulazione in presenza di ritardo è stata prima ottenuta nel lavoro con Yon Pinchoy nel lavoro con Yon Pinchoy e Alessandro Paolucci e poi è stata estesa quindi migliorando certi bound sul ritardo e sulla funzione rilassando le ipotesi sulla funzione di interazione in un lavoro con Alessandro vabbè anche qua utilizzando strategie simili a quelle usate per il modello di Cooker's Mail si può provare la buona positura di questo problema con esistenza necessità di una soluzione a valori misura e si ottiene anche una stima di stabilità che ci permette di rendere rigoroso il passaggio al Minfield Limit e il fatto che le nostre stime poi di consenso siano indipendenti dal numero di agenti ci permette di estendere il risultato di convergenza alla PD abbiamo bisogno che qui che la funzione di interazione psi sia l'ipschitz e vabbè non ho tempo quindi non so a dilungare lavoriamo nel setting della distanza di Wasserstein e facciamo vedere intanto la soluzione questa è la formulazione di soluzione debole vado subito vabbè utilizziamo intanto facciamo vedere che partendo da se la se la soluzione è a supporto compatto allora esistono delle costanti diciamo il campo di velocità e l'ipschitz è limitato e questo ci permette di applicare un risultato di canizzo carriglio rosado per avere l'esistenza locale poi facciamo vedere con tecniche analoghe a quelle del caso del sistema ODI che in realtà i supporti rimangono limitati quindi la soluzione si può estendere e vabbè questo è il risultato questo è il dato iniziale supponiamo che il supporto del dato iniziale sia contenuto nel in una palla allora per ogni tempo t fissato esiste una soluzione continua a valori nello spazio delle misure nel senso della precedente definizione inoltre la soluzione è a supporto compatto ed è il push forward della mu con zero che è G la misura G al tempo zero e vabbè come dicevo si applica un argomento di canizzo carrillo rosato per avere l'esistenza locale poi si fa vedere che i supporti restano limitati quindi la la soluzione si riesce a estendere schifo queste ci serve il risultato di di stabilità ho tempo di di addentrarmi nei dettagli e quindi c'è questo teorema di di convergenza al consenso per la PD quindi se abbiamo la soluzione se MUT è una soluzione della PD sull'intervallo di tempo zero t con dato iniziale a supporto compatto allora MUT soddisfa questa stima dove d di x è il diametro del supporto dove c è una costante vabbè indipendente dal dal tempo questo è stato ottenuto in realtà in questi lavori diciamo è stato ottenuto questo risultato ma con un bound sul ritardo cioè supponendo che il ritardo sia più piccolo di una certa taglia con Elisa diciamo questo il fatto di avere il bound sul ritardo per la PD dipende dal bound sul sistema ODI che avevamo ai tempi perché poi si trasferiscono le stime sul sistema ODI con il risultato di stabilità cui accennavo alla PD invece nel caso del lavoro con Elisa che non ho citato qua perché di fatto la dimostrazione è la stessa solo le stime sul sistema ODI le abbiamo senza bound sul ritardo quindi anche la stima PD ora vale senza bound sul ritardo cioè abbiamo solo bisogno che il ritardo sia una funzione continua e limitata ma senza richieste di piccolezza va bene ci sono delle estensioni giusto per per concludere accenno lo studio del modello di Cooper's Mail con ritardo dipendente dal tempo che è stato studiato da Elisa recentemente mentre sempre con Elisa stiamo studiando situazioni in cui l'interazione a volte perde cessa di essere attrattiva quindi la funzione di interazione è moltiplicata per una funzione del tempo che può anche degenerare e qui appunto si riescono a dare delle condizioni per avere ancora convergenza al consenso e si riesce un po' ad adattare queste dimostrazioni in particolare invece richiede argomenti diversi il caso attrattivo repulsivo che assomiglia un po' più a Cooper's Mail perché anche là abbiamo che l'interazione quindi può anche cambiare segno può essere positiva anche negativa quindi servono diciamo tecniche diverse mentre con dottoranda Chiara Cicolani stiamo studiando un modello per due diverse popolazioni con accoppiamenti eventualmente anche a uno a uno come sentivo parlava e Antonio due popolazioni che interagiscono tra di loro e su un insieme limitato di leader di individui particolari ci sono anche delle interazioni trasversali e anche qui interessante soprattutto in questo caso è interessante studiare la PD che diciamo c'è anche un po' da capire e poi menziono anche dei lavori recenti di Ascovec e Rodriguez e Cartavia dove considerano il ritardo dipendente dallo Stato che pur è interessante hanno risultato preliminare però con delle forti ipotesi sulla funzione psi di interazione quindi diciamo anche questa è una via da esplorare ok grazie ho esplorato un po' mi dispiace qualche osservazione domanda se non ci sono domande approfitto per visto che sono l'ultimo speaker ah certo approfitto per ringraziare gli organizzatori Cristian che non c'è poi lo ringrazierò personalmente Paola e Alessandro intanto per aver avuto questa idea per avermi invitato per aver organizzato questo meeting così diciamo carino atmosfera familiare è stata per me l'occasione di rivedere insomma colleghi che non vedevo da un po' per conoscere meglio qualcuno per conoscere persone nuove poi tutti questi bambini e anche giovani quindi va bene grazie mille e l'organizzazione naturalmente è tutto perfetto efficiente grazie anche qui allo staff a fare mi associo anche io ovviamente al ringraziamento per l'organizzazione ringraziamo ancora Cristina e alla prossima alla prossima grazie a tutti